Cadendo si è fatta male sia al ginocchio che alla spalla. Dopo tre chiamate è arrivata finalmente l'ambulanza portandola al pronto soccorso. I raggi che le hanno fatto hanno detto che c'era una frattura scomposta dell'omero al braccio destro. Da questo momento sono passate più di 50 ore. Lei è rimasta in pronto soccorso senza acqua, senza viveri. Sono mancati i beni di prima necessità in tre giorni praticamente. Mai visitata da nessuno se non delle flebo antidolorifiche a stomaco vuoto poi va bene. È stata lei anche a chiedere il ghiaccio da mettere un po' sul braccio. Avrebbe pazientato per oltre due giorni con una frattura scomposta su una poltrona del pronto soccorso del Policlinico di Bari a raccontare la disavventura di una donna di 60 anni di Capurso e il figlio che ha cercato pur violando il regolamento di fornire assistenza alla madre portandole almeno un po' di acqua e di cibo soltanto dopo oltre 50 ore e lo sfogo sui social del figlio la donna ha ricevuto il posto letto. Dopo il mio post è spuntato questo posto letto, adesso è in ortopedia finalmente e è riuscita dopo tre giorni anche a lavarsi, a cambiarsi l'intimo, a darsi una sciacquata. C'è bisogno di un post su Facebook per denunciare la cosa e per far sì che la sanità pubblica si dia da fare per risolvere la situazione e per curare poi una persona. Intanto la struttura sanitaria replica le accuse pur confermando le difficoltà nel trovare posti letto nel reparto di ortopedia, sottolineando che la paziente è stata assistita grazie anche all'ingresso del figlio nella sala d'attesa del pronto soccorso. Di base c'è una disorganizzazione, oltre questo c'è anche un po' di maleducazione. Capisco lo stress perché è stato un anno e mezzo terribile per i personale sanitario però bisognerebbe sempre rispettare la dignità umana e rispettare comunque anche la persona in termini di educazione.